Sono felici di essere popolari, eppure non sono ancora volati via. Sono i parenti di, scelti da Simona Ventura per l'isola dei famosi Otto. Partono il giorno dopo i VIP, eppure loro arrivano allinate all'alba, quando ancora non è sorto il sole. Sorridono alla telecamera che li aspetta per spiare i momenti prima della partenza. Giovani, belli e simpatici. C'è Francesco Rapetti, figlio di Mogol, con la sua faccia pulita. Francesca De Andrei, figlia di Cristiano, nipote di Fabrizio, con gli occhiali scuri e un'aria da vera diva in erba. Abigail Barois sarà spiatissima e chiacchieratissima. Essere la sorella naturale di Mario Balotelli non è tutto rosa e fiori. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.